Nonostante il ritorno di Giovanni Pisano in panchina, per il Modica Calcio niente da fare. L'allenatore aveva presentato e ritirato le dimissioni nel giro di 24 ore, ma la sua presenza niente ha potuto contro la libera caduta del Modica Calcio, terz'ultimo in classifica con appena 12 punti. La partita di ieri si è chiusa 3-1 a favore del Sicula Leonzio, che ha sfruttato la difesa incerta dei Rosso-Blu, che hanno regalato con un autogol di Marchese una reta agli avversari. Sarà un autogol dell'altra squadra a far guadagnare il punto a Modica alla fine della partita, quando ormai comunque il recupero era impossibile. Un quadro sempre più nero per la squadra modicana, sempre più lontana dalla città e dai suoi sostenitori. A questo si aggiungono partite inconcludenti che fanno sprofondare la squadra sempre più giù. Non si prospetta nulla di buono, insomma, per la squadra del Modica Calcio.